Torniamo nel mondo delle curiosità cinematografiche che non sapete e non sapevate di voler sapere, oggi le saprete, sì come Bilbo. Oggi con una top 10 cinema e storia, ossia 10 volte in cui i film sono riusciti volontariamente o meno a influenzare pesantemente non solo il pubblico ma anche il corso della storia reale degli eventi del mondo, più o meno importanti ovviamente questi eventi però, grazie alla loro semplice esistenza e proiezione di fronte al grande pubblico. Mi raccomando, se vi piace il video condividetelo con i vostri amici, lasciatevi un seguito sul buon vecchio Instagram che trovate qui sotto e via. Alla numero 10, E.T. le M&M's e gli USA. Quante sigle sono uscite a infilare in una singola frase, comunque. Siamo negli anni 80 con Spielberg che sarà protagonista di varie posizioni e che ormai ha una carriera di regista affermata. Dopo lo squalo, Indiana Jones e incontri ravvicinati del terzo tipo, tutti sanno che ha praticamente sempre successo e ritorna con un po' di alieni buoni, in questo caso, di nuovo, e cari, ma qualcuno pensa il contrario. La scena in cui Elliot attira E.T. con il caramellino era stata scritta nella sceneggiatura pensando che quelle sarebbero state le mondialmente già celebri M&M's, ma quando venne offerto il contratto sponsor nel film Alla Mars, che possedeva il marchio M&M's, quella rifiutò perché fu dichiarato che il reparto marketing pensava che E.T. in quanto alieno brutto, come la fame, avrebbe spaventato i bambini che avrebbero odiato tutto ciò che collegavano a lui e quindi le M&M's. Ma Spielberg ce le voleva proprio mettere le palline colorate e andò allora alla sconosciuta, da noi ancora oggi, Hershey's, che con le sue Reese's Pieces, ossia le M&M's degli sfigati, create nel 1980, ma che stavano due anni dopo già fallendo del brutto, volevano soltanto una possibilità, accettarono e colpo di scena, post film, le vendite aumentarono del 25% di quelle caramelle, le pubblicità con E.T. si sprecarono e resero la Hershey's uno dei marchi di dolciumi più ricchi al mondo, anche se in pratica è conosciuta soltanto negli Stati Uniti. Alla numero 9, Fight Club fa sì che si creino molti Fight Club. Questa vive un po' di voci, leggende metropolitane, un po' come Fight Club, ma pare che comunque evidentemente in fin dei conti del Fight Club si parli e come, visto che poi alla fine ha anche indagato le FBI, quindi poi tanto leggende metropolitane. Post film di Fincher, in cui Edward Norton si scrive baldanzoso a questo club per pestarsi illegalmente tra maschi stanchi della vita media americana, divennero popolarissime queste attività ricreative, soprattutto in America. Un numero esorbitante di club di legnate clandestine si creò sia nella Silicon Valley, tanto che molte aziende di tech dovettero proibirne la partecipazione dei dipendenti nei contratti, e in college anche prestigiosi come Princeton, in cui vennero istituti ed i gruppi studenteschi di controllo per evitare problemi e disordini riutosi all'interno dei campus. Alla numero 8, Paul Giamatti fa ubriacare di più e meglio tutti con Sideways in viaggio con Jack. È un film sui vini della California, ora qualcuno potrebbe inorridire al pensiero, immagino, io non commento perché non bevo vino, mi fa schifo a priori, quindi non saprei dire se le vigne californiane facciano pena e i merigani facciano come al solito, vedo anche lì la figura dei disperati, o il clima mediterraneo anche da loro dia un buon prodotto. Boh! Ma comunque, basta un film evidentemente con ben poche, tra l'altro bassi sulla realtà, a convincere gli americani che se una sceneggiatura di Hollywood ti viene a dire che il Pinot Nero è il vino migliore della California, mentre il Merlot fa schifo, è così! Le vendite del Pinot aumentarono nei due anni seguenti al film del 16% e quelle del Merlot crollarono nel 10%, cioè immaginate i produttori di questo vino in California che dovevano far fronte a un personaggio di fantasia in un film che dice che fai schifo e quindi è vero! Alla numero 7, una maschera che ha fatto la storia in vi per vendetta, a suo modo, anche se solo simbolicamente, è ovvio che il buon Guy Fawkes abbia influenzato pesantemente il mondo, chissà se nel 1600 il simpatico attentatore su cui poi appunto si basa la celeberrima maschera e che voleva fare fuori l'intero governo britannico immaginava che sarebbe finito per diventare una maschera in faccia a Hugo Weaving in un film su un altro tizio che in maniera molto convincente vuole far fuori anche lui tutto il governo britannico, così convincente in effetti che in modo stilisticamente valido il più grande gruppo anarchico e indipendente di hacker del mondo sia Anonymous già nel 2008, alla sua prima grande battaglia online contro Scientology all'epoca, non so se lo sapevate, su Youtube in particolare con video per denunciare la chiesa avrebbe poi preso la maschera del film il cui profilo oggi in pratica significa Anonymous, tutti quanti noi lo uniamo a quello. Alla numero 6, il sacrificio di mamma Bambi non è stato in vano in Bambi, La mamma di Bambi crepando traumatizzò plurime generazioni, ma le traumatizzò così tanto da generare una specie di effetto farfallo, o meglio, effetto cervo. Esiste infatti il cosiddetto Bambi Effect. Oltre al fatto che nei seguenti anni in Nord America e Europa la caccia al cervo crollò rispetto al decennio precedente, al 42 ai minimi storici, con una diminuzione pare tra il 30 e il 60% di quel genere di selvaggina cacciata in entrambi i continenti, il Bambi Effect appunto sorse nella sua volendo anche comunque deprimente contraddittorietà, ossia il freno psicologico per pietà che oggi contraddistingue una buona parte della popolazione occidentale non voler mangiare creature unanimemente considerate carine e coccolose, mentre è socialmente più accettabile invece mangiare carni di animali meno poppo apprezzati come i poveri maiali, soltanto perché meno carini. Alla numero 5, la fine della pena di morte in Polonia per un breve film sull'uccidere, che è il titolo di breve film sull'uccidere, diretto da Krzysztof Kiesowski, un po' bistrattato a Cannes dove fu presentato ma apprezzato in patria appunto la Polonia, che pur non essendo mai stata all'interno dell'Unione Sovietica, comunque fino al crollo del blocco sovietico è stato uno dei vari stati satelliti dell'URSS, con annesso ovviamente governo fantoccio e politiche di repressione del dissenso politico e sociale, tra cui ovviamente una notevole e attiva politica di repressione basata su una ferrea applicazione della pena di morte. Ovviamente mal vista da gran parte della popolazione già all'epoca che molto ricettiva nei confronti del tema l'uscita di questa pellicola, che appunto fa il parallelo tra l'omicidio Mune e l'omicidio poi di stato, di un condannato per tale omicidio che viene presentato all'inizio, portò anche con numerose proteste nel 1989 a una de facto abolizione della pena di morte, che seppur combinata poi in altri sei casi, da quel momento fino ad oggi, non è poi mai stata applicata. Alla numero 4, grande aumento della popolarità del KKK, l'uscita di una nazione, viva e viva! Niente male direte, David Griffith dirige nel 1915 quello che è considerato come il primo film colossal della storia e è girato con un sistema di sviluppo narrativo anche grazie al montaggio innovativo, che sarà poi alla base per le modalità di raccontare una storia al cinema da quel momento in poi. Peccato che era una storia in cui i neri cattivi violentavano donzelle bianche pudiche e innocenti e venivano per questo poi linciati da buonissimi e giusti salvatori della patria e cappucciati di bianco, ossia il Ku Klux Klan, che pensate nel 15 aveva per fortuna completamente perso la sua influenza e popolarità. Era quasi scomparso in realtà, ma post uscita del film, proiettato anche alla Casa Bianca, esplose di nuovo il secondo Klan, come fu chiamato, nei 5 anni seguenti arrivò ad avere ben 5 milioni di tesserati, che su una popolazione di 100 milioni, di cui 90 bianchi, e vi lascio la matematica, ma ecco. Alla numero 3, grande diminuzione dell'impopolarità dei gay, con victim di contro, per fortuna una buona influenza qui. Siamo in Inghilterra, in anni in cui ancora l'omosessualità pubblica, o meno, non importava, era punibile e punita sia con carcere che con castrazione chimica. Non era esattamente un mondo molto aperto di mente, ma ci si poteva lavorare già all'epoca. Difatti, col film di Basil Derden, con protagonista un avvocato gay che però cerca di nascondere la sua sessualità per paura di conseguenze professionali, ma appunto poi decide di farsi valere anche in pubblico. Questo fu il primo film anglofono a trattare la tematica gay da un punto di vista positivo e propositivo. Fu ovviamente censurato in tutti gli Stati Uniti, chiaro. Ma invece in patria generò un buon movimento, tanto che dopo solo 7 anni il governo inglese passò una legge per la libertà di rapporti omosessuali solo nel privato, però comunque era già qualcosa. E alla numero 2, fare il bagno non sembrò più così divertente dopo lo squalo. Questa viene spesso presa come una barzelletta esagerata da molti, ma purtroppo è la triste verità. Purtroppo per gli squaletti intendo che a fronte di 633 vittime giù di lì negli ultimi quasi 100 anni di attività squalettosa sul pianeta Terra, sono morti invece in un numero incalcolabile, loro a causa della pesca intensiva. Anche grazie a uno dei film più belli della storia del cinema di Spielberg, Lo Squalo, Spielberg pur di fatto oggi dichiarandosi triste per la cosa, questa influenza involontaria, la pellicola causa una specie di isteria generazionale che dura ancora oggi. Fino a quel momento immotivata, proprio perché appunto è più probabile precipitare in un volo di linea che essere attaccato da uno squalo. Non solo nei 10 anni, dal 75 all'85, secondo statistiche internazionali, l'affluenza alle spiagge di coste oceaniche, nordamericane e europee, crollò dal 20 al 30 per cento, per paura degli squali. E alla numero 1, Kennedy e tanta sana cospirazione. JFK, un caso ancora aperto, è il film, dopo 60 anni ancora si discute in modo acceso della morte del prezzo statunitense, assassinato da un cecchino a Dallas sulla sua auto presidenziale, lo sappiamo tutti, veterano impazzito, omicidio di Stato, la CIA, gli alieni e un rettiliano, Kennedy è vivo su Marte assieme a Elvis e Hitler, l'hanno visto al baretto l'altro ieri con Michael Jackson? Non si sa, ma nel 91 Oliver Stone con Kevin Costner dai panni di un avvocato particolarmente zelante e cospirazionista, con un film che cercava di dire la sua a riguardo cospirando sulla teoria dei multipli proiettili, infiammò di nuovo il pubblico in un modo che fu anche percepito come abbastanza grottesco, tra l'altro per un regista come Stone, ma data la nuova ondata di polemiche, il congresso, pensate, promulgò l'anno dopo un atto per il raduno di tutti i file top secret, sul caso il cui 97% ad oggi è stato desecretato ed è pubblicamente consultabile, si arriverà al 100% per evitare che quantomeno si dica che è stata colpa del governo. Allora, piaciuta questa lista? Mi raccomando, fatemi sapere qua sotto nei commenti e ci vediamo domani per un altro top.